L'obiettivo di ogni ospedale di eccellenza è quello di fornire le migliori cure possibili ai propri pazienti, evidentemente. L'obiettivo di un ospedale come il Gaslini, che vuole essere eccellente, vuole essere all'avanguardia, è non solo quello di fornire le migliori cure possibili, ma di fornirle anche nel modo più sicuro possibile. Perché diciamo questo? Perché non esiste in sanità nessun intervento che sia scevro di pericoli. I pericoli sono connaturati con la tipologia dei pazienti stessi, quanto più questi sono complessi, tanto più evidentemente meritano e necessitano di un'attenzione particolare e noi reclutiamo i pazienti più complessi in ambito pediatrico del territorio nazionale. Non solo, sono correlati alla tipologia delle prestazioni, prestazioni di avanguardia, di chirurgia, nuovi farmaci potenti evidentemente, efficaci, non è pensabile che non si portino dietro una serie di problematiche, sono correlati all'organizzazione, l'organizzazione è fatta di uomini, bisogna far sì che gli uomini agiscano, gli uomini e le donne evidentemente, agiscono in maniera correlata, in maniera sicura, in maniera conforme agli standard delle procedure. Ecco perché è necessario un processo di sistema, un metodo. L'istituto ha scelto Joint Commission International, che è un ente di accreditamento internazionale, nato in sanità, fatto per la sanità e fatto da persone che lavorano in sanità, quindi uno strumento molto potente per il controllo di qualità e di sicurezza dei pazienti, accredita più di 20.000 programmi, ha un'esperienza enorme in quanto più di 5.000 ospedali sono già accreditati. Fornisce sostanzialmente ai nostri operatori una serie di strumenti, di elementi misurabili, chiamiamo noi di standard, cioè di segnali, campanelli di allarme, indirizzi che vengono dati sulla base dell'esperienza consolidata in giro per il mondo. Qualche esempio pratico, partiamo per esempio da una connotazione apparentemente banale, che è il riconoscimento del paziente, mettere in piedi una procedura che garantisca che quella prestazione erogata proprio al paziente è giusto, evidentemente è un punto di sicurezza, ma soprattutto la gestione dei farmaci, dalla prescrizione che deve essere controllata a tutte le fasi di preparazione e di somministrazione, il percorso di sala operatoria, la possibilità di prevenire e controllare le infezioni ospedaliere, questi sono soltanto alcuni degli item che caratterizzano il percorso giornaliero dei nostri operatori che attraverso gli standard cercano di presidiare e di fatto garantiscono che oltre cure eccellenti vengono erogate anche cure sicure.